Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, attualmente al Paris Saint-Germain, ha espresso la sua insoddisfazione per la situazione nel club francese ed è determinato a lasciare la squadra nella prossima finestra di mercato. Il rapporto tra il giocatore e la dirigenza del PSG sembra essersi deteriorato, portando Ruiz a considerare nuove sfide nella sua carriera. Dal suo arrivo al PSG, Fabian non è riuscito a imporsi come titolare, il che ha contribuito al suo malcontento. Nelle ultime dichiarazioni ha sottolineato la mancanza di minuti in campo e la ricerca di un ambiente più, favorevole alla sua crescita. La finestra di mercato di gennaio 2024 si avvicina e il futuro del giocatore aperto. Una delle speculazioni che hanno preso slancio è un possibile ritorno al Napoli, dove Fabian ha avuto un periodo straordinario e ha guadagnato la fiducia dei tifosi. Il club italiano potrebbe beneficiare dell'esperienza maturata dal giocatore in Ligue 1, ma non c'è ancora alcuna conferma della trattativa. L'aspettativa è che il direttivo partenopeo valuti la situazione dell'atleta prima di prendere qualsiasi decisione. Intanto tifosi ed esperti restano attenti all'evoluzione della trattativa e al rendimento di Fabian Ruiz al PSG. La prossima finestra di mercato si preannuncia un momento cruciale per il giocatore, che è alla ricerca di una nuova opportunità per brillare in campo e riprendere il suo miglior calcio. Resta da vedere se il Napoli sarà la destinazione ideale per il centrocampista spagnolo.